Martedì 15 maggio è stata ricevuta a Palazzo Lascaris una delegazione di sindaci del Cuneese che ha espresso preoccupazione al riguardo del previsto taglio della linea ferroviaria che collega Saluzzo a Savigliano. Pur consapevoli del difficile momento economico e della carenza dei fondi, i sindaci hanno sottolineato come sia possibile razionalizzare e ridurre diverse tratte servite sia dai bus sia dai treni. L'assessore all'agricoltura ha risposto alla delegazione dei primi cittadini assicurando che nei prossimi giorni l'assessore ai trasporti si recherà nel Cuneese per un confronto sul tema.